e 500 regali. E per l'iniziativa a Natale con i fiocchi qui nel cuore di Torino e in Piazza Castello c'è anche il circo con il vertigo Cirque Carillon. L'appuntamento nel pomeriggio oggi alle 17.45. Sembra una giostra d'altri tempi carica di suggestione e magia il carillon gigante che anima il circo in Piazza Castello appeso con un cavo d'acciaio ad un'alta gru. E' il simbolo quest'anno del Natale torinese accanto al grande calendario dell'Avvento. Uno spettacolo di grazia e abilità affidato agli artisti del circo vertigo di Paolo Stratta. Protagonisti nel cielo torinese sei angeli, giovani acrobati internazionali che si esibiscono a 15 metri d'altezza. Ogni volta il cuore dello spettacolo cambia mentre rimangono inalterati l'inizio e la chiusura. All'evoluzione di ballerine però si alternano a terra clown e giocoglieri anche loro maestri dell'arte circense, beniamini di adulti e bambini. Uno spettacolo che anche con le temperature rigide di questi giorni tiene inchiodato il pubblico e continuerà a farlo fino al 6 di gennaio.